Konnichiwa Nihon! Mi chiamo Maxim Mironov e sono felicissimo di ritornare in Giappone per fare il ruolo di Ernesto in Don Pasquale di Donizetti. È un ruolo molto molto interessante, molto carino, non molto lungo ma molto bello, con delle aree, duetti, in un'opera un po' triste ma anche molto divertente. Ah, la mia scena preferita è il duetto d'amore con Norina nel terzo atto quando veniamo di notte davanti alla sua casa. Venite a guardarci e a vederci nel bellissimo teatro di New National Opera of Tokyo.